È febbraio 18, 2018 in Mantua, Italia. E una piccola immagine è a Arciton. Stiamo con Linus Johansson, cantante della band di Chievi. Ciao Linus, come sei? Ciao, sono bene, grazie. Questa è la prima volta in Italia con la band di Chievi. Questa sarà una notte più attenzione. Quindi, sì, spero che tutti voi ascoltate e ascoltate a noi sul Spotify o Head Records. Molte grazie a voi. Grazie.